La testa e la coda Questo è l'ultimo libro nato dall'estro di Enrico Candiani Che racconta una storia noir ambientata nel Vicentino E che ha tra i protagonisti la famiglia Brunello Anche se sotto un altro nome Come mai un posto di questo genere? Da voi distillatori seri, rigorosi, tradizionali da 70 anni? Noi proprio perché abbiamo una lunga tradizione Non volevamo che questa diventasse una forma di staticità, di polverosità E abbiamo dimostrato che pur essendo la più antica distilleria artigianale d'Italia Abbiamo delle idee innovative Con le quali vogliamo affrontare un mercato che è in continua evoluzione Perciò fare riferimento alla nostra tradizione Con delle proposte nuove ai consumatori Anche a una fascia di consumatori Che magari non ha avuto l'opportunità Di incontrare i nostri prodotti E attraverso questa idea, questo romanzo Magari si avvicina Leggendo Magari sorseggia un goccettino di Buona Grappa Ecco parlando di Buona Grappa Quante sono le tipologie oggi di distillato che voi fate? Restando alla grappa in particolare Perché oltre a quelle tradizionali Ma ne avete fatte anche, come dire Per incontrare, giusto come si diceva, il pubblico anche dei più giovani Anche se rigorosamente Perché basta vedere la vostra distilleria come assolutamente antica Certo Guarda, il nostro motto è Profumo antico sapore moderno Un po' per ricordare la tradizione E per avvicinarsi ai gusti del consumatore attuale Le tipologie sono varie e diverse Diciamo che noi ci distinguiamo Per la ricerca del vitigno autoctono E del trasferire all'interno della grappa Le caratteristiche organolettiche di questi vitigni Di questi straordinari vitigni Di ogni territorio particolare Che partono da Pantelleria e arrivano al Trentino Perciò nella scia della tradizione Abbiamo una serie di grappe da vitigni autoctoni Appunto come lo zebibbo Come l'aleatico di Gradoli Il catarratto, il frappato L'aspergola, il cruaio Per dimostrare che anche Attraverso la ricerca dei vitigni Che non sono blasonati Possiamo dare, offrire Un prodotto di altissima qualità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti